È partito nel pomeriggio in Pullman e ha raggiunto con i suoi collaboratori la Casa Divin Maestro ad Ariccia, vicino Roma, dove rimarrà fino a venerdì. Papa Francesco ha iniziato gli esercizi spirituali del tempo quaresimale, tenuti quest'anno dal sacerdote friulano Hermes Ronchi dell'Ordine dei Servi di Maria. Il tema è dedicato alle nude domande del Vangelo. Subito dopo la recita dell'Angelus in Piazza San Pietro, Papa Francesco aveva chiesto ai fedeli di pregare per lui e per tutti i partecipanti al ritiro. Come di consueto nel periodo degli esercizi sono sospese tutte le udienze, compresa quella generale del mercoledì.